Ciao a tutti, un saluto dall'Umbria. Non so bene perché sono arrivata qua, ma so che ci sono arrivata. È stata tutta una cosa molto molto veloce. Per la prima volta in vita mia ho sentito quello che avevo dentro. Ho sentito quella voce che forse tanti di voi sentono, ma che non avevo mai ascoltato, che avevo cercato di coprire in tutti i modi. Avevo fatto un rumore pazzesco dentro di me per non sentire quel silenzio cosmico che mi stava dilaniando dentro. Dirvi dove sono arrivata non lo so ancora. Mi sento in pace. Sento di aver lasciato andare delle cose forti. È ancora parecchia emozione dentro, ma è un'emozione che tende al sorriso. Non è un'emozione che tende al... Oddio, perché non ce la posso fare. Sento una grandissima forza dentro e so che non potrò altro che migliorare. Non vi so dire che cosa troverò, ma so che troverò quello che sto cercando.